vergognatevi tutti vergognatevi tutti vergognatevi vergognatevi società falimentare come quella di pallotta che arrivano le offerte pam 80 milioni subito via il capitano che aveva firmato fino al 2026 ci aveva fatto credere che tutte le voci di mercato siano proprio scansate dal suo dal suo nome invece no nonostante avesse rinnovato fino al 2026 pellegrini vala juventus posa il suo progetto per la salute 2022 2023 fino a diciamo 2028 un contratto quinquennale 2027 28 ed è una vergogna una vergogna perché perché la società peggio di pallotta vende un altro big meno male che erano grandissimi frietkin i grandissimi americani che ci porteranno a vincere via pellegrini il capitano 80 milioni subito accettiamo sì poi vendiamolo subito a una rivale non era mai all'estero se proprio dovevamo vendere il nostro gioiello capitano no ora quello che rappresenta roma la città di roma vala juventus a 80 milioni di euro poi questi dove tirano fuori soldi non lo sanno neanche loro dato che non è che siano una bellissima situazione e poi hanno preso pure vlauvi ci a gennaio quindi ne hanno già sborsati e niente pellegrini vala juve pellegrini vala juve vergognatevi tutti vergognatevi tutti sposa il progetto bianco nero mo io vedete se dice che ti fava juventus fin da bambino ma va lì per i soldi parliamoci chiaro per i campioni di bala delicta eh scesni eh tutti sti vari giocatori ma che vergogna vergognatevi che gestione verso il capitano e poi lui che ci abbandona così no dopo che aveva rinnovato il contratto pam se ne va la juventus eh il simbolo di roma ma vattene a cagare va pellegrini via da roma o vergognati vergognati e ha già fatto un colloquio con murini un dibattito che non vorrà neanche più giocare per il resto della stagione quindi non sarà a disposizione per il tecnico portoghese e questo ci metterà molte difficoltà e si parla di un suo possibile sostituto che sia orsolini oh ma dove voleva andare orsolini orsolini può giustamente l'orsi oh orsolini al posto dei pellegrini oh ma che se siamo tutti impazziti oh che vergogna che gestione societaria che vergogna che vergogna il capitano se ne va ciao ciao va la juventus pezzo di merda ant che vergogna che vergogna non ci posso credere sono scandalizzato perché è un pesce d'aprile eh vabbè tanto molti di voi l'avranno anche intuito no prima aprile magari questo qui per video pellegrina a juventus sono andati tutti a cercare su google ma molti sapranno che pesce d'aprile prima aprile quindi ciao ben trovati intanto iscrivetevi al canale attivate la campanella e rimanere giornali su tutti i prossimi contenuti che escono ogni giorno sul canale costantemente lasciate un betale che non appena vi arriverà la notifica quindi finto sfogo sfogofazzo pellegrina a juventus si si e noi ci vediamo alla prossima perché comunque escono contenuti continui eh ciao ciao